L'uomo è padrone della sua vita A maggior ragione quando tutto questo diventa una storia d'amore Come quella che noi oggi celebriamo per Sante e Teresa Costruire la casa sulla roccia Vuol dire mettere al primo posto ciò che serve affinché la costruzione Non soltanto venga su ma soprattutto duri nel tempo Grazie a tutti Teresa ricevi questo anello Segno del mio amore e della mia fedeltà Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Sante ricevi questo anello Segno del mio amore e della mia fedeltà Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti